intanto una tripta aperta dall'arco dei 6 e 75 ancora una tripta ancora un canestro legge nel cuore dell'area arresto il tiro di baldini che ne mette in segno altri due baldini dall'altra parte blocco di Pizzerocco ancora baldini conciuta di baldini si va sotto per due che senga con il fallo il palleggio di baldini ancora sotto per K con il punto esclamativo baldini penetra con la mano sinistra baldini a guidare la tradizione offensiva di Bernareggio bravissimo se sul dizionario cerchiamo canestro del capitano troviamo le ultime due azioni di giacolo baldini si è trascinato dietro tutta la difesa di Vicenza grande quale numero 28 bellissimo giocatore baldini di uff chiuso alla perfezione baldini questa volta chi ripertena il ritmo per la bomba del capitano baldini allontana l'avversario step back con la tripla dall'angolo importantissima quella del capitano per la tripla per la tripla di baldini importante il capitano il capitano va a segnare su questo canestro Valdini resta il tiro di Valdini molto ispirato Valdini altri due punti di Capitan Valdini decisivo nel finale